e in questo momento siamo in linea con francesco annunziata premiato con la menzione speciale la miglior trama per un libro straordinario l'orologio di montesaro non so se l'ho pronunciato bene e scopro e scopro francesco dalla dall'immagine tua che tu sei proprio un orologio questo sì sono orgoglioso di dirlo e di di confermarlo perché è stato proprio la ragione della mia vita fare l'orologio sono nato forse orologia perché da piccolino mi ero innamorato degli orologi e della bottega del mio maestro che cito nel mio romanzo dove sono orgoglioso di averlo incontrato e di averlo conosciuto e di aver appreso proprio il lavoro da lui veramente è stata una cosa bellissima che mi porterò sempre come ricordo e in effetti continuo a fare l'orologio con i suoi attrezzi uso le sue pinze e parlami un po del tuo romanzo come nasce un po la trama no di questo orologio che in crisi con la moglie poi va nel suo passato no ritorna alle origini la quella ragazza di cui si era immorato che era era praticamente di una famiglia potente no eh che che ha osteggiato proprio anzi ha proprio vietato non so se ho reso bene l'idea mi scusi se la interrompo mi volevo dire più che osteggiato no 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 diciamo le spiego le spiego forse perché qualcuno me l'ha chiesto questo forse è nato un equivoco nello spiegarmi nel libro praticamente loro mi hanno solo detto di farmi da parte perché per loro non esistevo ero invisibile ovviamente perché c'era il subentro di un nuovo giovane appartenente a un appare a loro pari e che giustamente era era promessa in sposa a questo giovane allora si è innescato quel quell'odio gelosia da parte di questo nuovo new entry praticamente e debbi questa sfida questa sfida che poi è stato un braccio di ferro tra il male il bene che ovviamente ha vinto il bene perché c'è una frase che che cito che ho coniato nel libro e dico che il male è da sempre ma il bene per sempre quindi a tutti gli amici a quelli che mi ascoltano fidatevi che il bene vince sempre non non impressionatevi che arriveremo sempre al bene e l'ha dimostrato gesù bravissimo che a chiapacchia sono molto molto interessante tra l'altro un libro molto scorrevole anche se la trama è a tratti nel senso complessa integrata cioè perché si va avanti indietro nel passato i personaggi costruiti in modo veramente molto molto interessante e ha colpito proprio questa storia no con questa ritorno anche al passato e alle origini veramente veramente molto bello e gravi e quindi stai confermando che in qualche modo è molto autobiografico è la tua storia beh diciamo che tutto quello che racconto fa parte della mia vita anche paradossalmente anche la storia di gaming way che ho raccontato è vero che ho fatto un po come dire un lì c'è un po di conflitto di interessi ho voluto un po pubblicizzare le mie terre le ho volute decantare però le ho fatte a modo mio il fatto del in merito al deming way proprio il passaggio del deming way si allaccia una storia che io mi è capitato durante il corso della mia vita di conoscere un giovane ovviamente che poi era diventato un barbone almeno nei miei ricordi era così che lui veniva preso in giro lì ad acciaroli e che praticamente agli occhi della gente era uno che raccontava frottole perché lui diceva che asseriva addirittura che suo nonno fosse stato il barcaiolo di eming way quando si era trovato in italia questa storia mi colpì poi da scrittore ovviamente io mi interessa a questi particolari e li faccio mia mio e allora che succede succede che lui mi racconta che che il libro di eming way che riguardava il vecchio mare che si ispirasse proprio a suo nonno e allora ha voluto dargli quel merito che gli venne tolto dai quei giovani che lo prendevano come dire magari in giro va e allora è che io difesi quella volta strenuamente e allora gli ho voluto dare questo spazio e ho parlato di eming way non non a caso proprio in merito a questo fatto è stato tutto quello che ho scritto anche anche il principe Carlo di Inghilterra non è stato un'ironia così scampata all'aria io ero un ragazzino e lui venne in viaggio di nozze con Diana con la principessa purtroppo defunta Diana ovviamente mi capitò ebbi la fortuna di vederli e vedi che si mangiava proprio una zeppolina tipica di di Positano e ho voluto immortalare anche questo quindi tutto quello che che riguarda le storie mi sono un po' riallacciato al mio passato veramente meraviglioso grazie di essere stato con noi grazie grazie a voi per il tuo libro e grazie di seguirci mi auguro alla prima occasione che sarò in zona di venirti a trovare nel tuo spendo negozio tu sei a Montecchio nell'Emilia Montecchio Emilia però a trovarti provincia dell'Emilia Montecchio Emilia sarà un onore perché io la stimo molto la seguo e anzi la ringrazio perché lei si adopera per il bene e dato che io sono un palladino del bene la seguo e la e la voglio bene proprio la verità perché a volte sai le strade della vita non ci porta sempre esatto il bene ci porta a volte a perderci ma a volte bisogna davvero perdersi per ritrovarsi e qui e qui e qui si c'è la teoria che ho detto prima che di stare sereni e tranquilli perché il bene arriva prima o poi io io sono felice ho passato delle vicissitudini ma adesso ho una figlia di 22 anni una moglie che è ritornata da me mi vuole bene e abbiamo ricostruito una bellissima famiglia quindi bisogna crederci nelle cose e volerle soprattutto eh Francesco credo che sia ci sia la vita ci dà sempre la possibilità di scegliere anche quando ci accadono delle cose brutte o quando anche quando sbagliamo nella vita dobbiamo sempre l'opportunità di scegliere il bene perché la vita ci dà sempre la scelta esatto esatto quello che ci porta a crescere nella vita a evolverci come esseri umani non restare arroccati sul nostro errore o su quello che c'è sulle disgrazie che ci sono successe ma coglierle come opportunità per essere migliori per guardare verso il bene grazie come come non potrei essere d'accordo grazie a voi vi auguro tutto il bene del mondo buona serata a voi grazie ciao